Ci sono conveni capaci di segnare i giovani con rara incisività, aiutandole ad affrontare le sfide del tempo presente, in un sapiente apprendistato alla vita. Quello svolto sia oggi a Palazzo Muzzo, intitolato 1989-2019, quando cadde il muro di Berlino, è senz'altro uno di questi. Un incontro di spessore, sia per gli ospiti di pregio, fra i quali il cardinale Giovanni Battistarello, onorevole Gilberto Bonalumi, sottosegretario al Ministero degli Esteri, al Governo De Mita, Deglia Campanelli, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Marco Beccaria, docente esperto di storia, sia per la tematica. Presenti gli studenti delle classi quinte, dei licei sondriesi, delle quarti, del Pinchetti di Tirano, che hanno scoperto il significato di uno dei momenti storici fra i più importanti della seconda metà del XX secolo, ossia la caduta del muro, simbolo della Guerra Fredda. Il cardinale Rea ha ricordato l'influsso rivoluzionario della Santa Sede, quale Grimaldello, per contribuire al crollo di quel muro, aprendo a regimi comunisti i quattro fattori determinanti, fra i quali la presenza di Papa Giovanni Paolo II, lungimirante esempio di coraggio nella battaglia per i diritti umani, Gorbaciov, che seppe portare al regime riforma e innovazioni, rega nella sua politica ferrea contro l'impero sovietico, ma anche la nascita del sindacato degli operai polacchi. È stato infine citato il contributo della conferenza di Helsinki e dell'azione diplomatica del cardinale Casaroli, che ha posto le basi per una pacifica unione dell'Europa. A fare gli onori di casa, il dirigente Fabio Molinari. È al centro del nostro interesse promuovere percorsi che aiutino gli studenti a studiare meglio alcuni fatti di storia contemporanea che loro, per la loro età, non hanno visto, non hanno vissuto, e trovano solo sui libri, ma che grazie alla presenza di testimoni efficaci come quelli di oggi riescono a cogliere e forse riescono anche ad apprezzare in tutta la loro grandezza e di importanza. Frontiere, ponti o muri a seconda della determinazione con cui l'uomo odierno riesce a connettere il presente con il passato. Gli anni che stanno vivendo adesso gli studenti sono gli anni più importanti della vita, perché sono gli anni che li preparano al loro futuro. Domani saranno quello che hanno voluto essere adesso, perché il futuro non si aspetta come si aspetta un treno, come si aspetta una corriera, ma il futuro si prepara. A spronare ragazze ed essere parte attiva e resiliente di un mondo spesso appiattito dal conformismo e da una politica legata ai tornaconti, svuotata dai valori, l'intervento dell'onorevole Bonalumi, una lezione speciale che ha saputo regalare spunti per insegnare a guardare le circostanze ed angolazioni diverse affinché possa essere trovata la propria voce. La prima molla per appassionarci a queste cose e per riproporre un impegno politico attuale è quello di avere sempre la capacità di indignarci.